Ma gli equilibri si spostano poco dopo la mezz'ora con questo destro violento di Marco Zunno che trova il quinto gol stagionale dopo la rovesciata al Picerno, lo fa bellissimo anche contro il Brindisi, avanti il Messina al Fanuzzi con questo destro non trattenuto da Ivan Saio 1-0 nella ripresa, parte subito forte il Messina e dopo 5 minuti raddoppia Così il Messina di Modica con Antonino Ragusa che trova il primo gol in stagione Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, 2-0 per il Messina al Fanuzzi E' partita senza successo però il Messina la chiude definitivamente al minuto 74 Rientra sul destro e calcia giro sul secondo palo ancora Marco Zunno Terzo gol nelle ultime due partite, uno più bello dell'altro Il Messina mette in cassaforte i tre punti portandosi nuovamente sul più due Il Messina che punisce Così il Brindisi, altra ripartenza letale della squadra di Modica E' nell'ultimo periodo da un giocatore veramente in uno stato di forma incredibile